Sabato! È il momento di organizzare una festa sorpresa con due esperti davvero speciali Valeria e Ruggero Oggi hanno bisogno di noi Sara e Francesca La festa è per una nostra amica Si chiama Simona Mi piacerebbe fare la stilista Basta avere delle buone idee Il tema è la moda E molta determinazione È uno spazio vuoto Sta a voi riempirlo Un'assoluta novità che potrai far diventare un successo Segui Get Party E se ti piace vai sul sito disneychannel.it Clicca like e lascia un commento Scopri come organizzare una festa a tempo di record con Get Party Sabato alle 14.35 a Disney Channel